Benvenuti ragazzi, oggi parliamo della fine dell'impero d'Occidente. Fine dell'impero d'Occidente la cui data, come sapete, è il 476 d.C., una data molto importante perché per noi segna la fine appunto della parte occidentale dell'impero romano e l'inizio del Medioevo. Ma vediamo come si arriva a questo risultato. Allora, sappiamo già che alla morte di Teodosio, nel 395 d.C., lo stesso imperatore separò definitivamente le due zone dell'impero. Al figlio maggiore Arcadio lasciò la parte orientale, che era la parte più ricca, e infatti l'impero d'Oriente si mantenne in piedi fino al 1453 d.C., mentre al figlio minore, Onorio, di soli 11 anni, lasciò la parte occidentale dell'impero. Allora, vediamo cosa succede in questa parte occidentale. Onorio ha solo 11 anni e quindi gli viene affiancato come tutore, e questo secondo la volontà di Teodosio, gli viene affiancato come tutore Stilicone, che era il generale, cioè il magister militum, il comandante in capo dell'esercito. Stilicone, che era un barbaro, un germanico che si era integrato nell'impero romano e addirittura aveva fatto carriera fino ad arrivare alla carica più importante di generale. Stilicone, ecco, si era meritato questa carica per la sua capacità di comando e anche per le sue capacità militari. Infatti sconfigge i Visigoti nel 401 d.C. e qualche anno dopo sconfiggerà anche gli Ostrogoti nel 405. Però tutta la classe dirigente di origine romana preme sull'imperatore perché non vede di buon occhio il fatto che un barbaro possa ricoprire la somma carica, la carica più alta dell'esercito. E quindi convincono l'imperatore che Stilicone vuole prendere il suo posto, che comunque Stilicone ha acquisito troppo potere. E allora nel 408 Onorio fa assassinare Stilicone. e l'impero romano si trova nei guai perché viene meno una figura forte e quindi cosa succede? Succede che le invasioni dei Germani e degli Unni si intensificano. Vediamo in questa slide vediamo proprio raffigurato questo è un dittico conservato nel Duomo di Monza vediamo raffigurato Stilicone che è raffigurato in armi quindi con la lancia e con lo scudo è raffigurato insieme alla moglie e al figlioletto comunque Stilicone muore e a questo punto i Visigoti già nel 408 assediano Roma e la città due anni dopo viene presa per fame quindi nel 410 i Visigoti comandati da Alarico prendono Roma e la saccheggiano cioè la mettono a ferro e a fuoco abbiamo il famoso sacco di Roma dei Visigoti che suscita grande impressione in tutto l'impero perché Roma anche se non era più la capitale dell'impero però era stata la città fondatrice dell'impero romano era stata per tanti anni caputomundi quindi il fatto che dei barbari si permettono di saccheggiare Roma di metterla a ferro e a fuoco veramente è un trauma per tutta la civiltà occidentale e diciamo che questa data è importante perché segna per l'impero l'inizio della fine perché i barbari entrano nell'impero ed occupano delle parti dell'impero per esempio i Visigoti dopo il sacco di Roma si stabiliscono prima nella Gallia Meridionale e poi definitivamente in Spagna i Vandali si stabiliscono in Africa Settentrionale e poi lo vedremo nel 455 con loro ci sarà il secondo sacco di Roma i Franchi e i Burgunti si stabiliscono nella Gallia Settentrionale per poi occuparla tutta e unirsi in un unico popolo gli Angli e Sassoni anche loro si uniscono in un unico popolo quello degli Anglosassoni e si stabiliscono in Britannia l'attuale Gran Bretagna praticamente e tutti questi movimenti di popoli sono dovuti al fatto che gli Unni avanzano gli Unni avanzano e quindi questi altri popoli germani hanno bisogno di territori e allora non essendoci una difesa forte nell'impero romano occupano i territori dell'impero romano gli Unni sono comandati da un comandante che è il terrore delle forze nemiche cioè Attila, il fragello di Dio si raccontava che dove passava Attila non nasceva neanche più erba gli Unni vogliono arrivare in Italia e nel 451 d.C. cerca di fermarli il generale Ezio che li sconfigge ai campi catalaunici in Gallia Ezio era un altro barbaro che era riuscito a diventare magister militum cioè a diventare comandante in capo dell'esercito però nonostante ciò gli Unni non si fermano e l'anno dopo nel 452 arrivano in Italia a questo punto Ezio non riesce più a fermarli e si presenta per fermarli Papa Leone I ecco la somma autorità della Chiesa sostituisce l'autorità politica militare che in questo momento si rivela impotente quindi è Papa Leone I presso Mantua o Papa Leone Magno come lo vogliamo chiamare a fermare Attila il quale si ferma perché riconosce la somma autorità anzi autorevolezza del Papa il Papa riesce a fermare Attila senza armi solo facendogli vedere la croce lo possiamo vedere in questa immagine in questo quadro in cui vediamo Attila e il Papa Papa Leone Magno che appunto con la croce lo ferma e sopra Papa Leone c'è come vediamo la protezione divina quindi Attila si ferma Attila si ferma e in questo momento ci chiediamo chi c'è come imperatore in Occidente e in questo momento c'è in Occidente l'imperatore Valentiniano III anche se diciamo che il potere il potere più più importante il potere militare ce l'ha il generale Ezio Valentiniano III era stato messo sul trono molti anni prima nel 425 a soli quattro anni dall'imperatore d'Oriente da Teodosio II quindi era stato diciamo fatto imperatore col protettorato di Costantinopoli ma siccome era troppo piccolo aveva come tutti dice la madre Galla Placidia infatti negli anni in cui Valentiniano III è bambino a governare effettivamente è una donna la madre Galla Placidia detto questo anche in questo caso si determina la circostanza che si era determinata tra Stilicone e Onorio cioè nel senso che anche Ezio non viene accettato perché è un barbaro quindi non viene accettato come comandante in capo dell'esercito e la classe dirigente romana preme sull'imperatore Valentiniano III perché lo elimini anche Valentiniano III si va a prendere dalla gelosia e da sospetto nei confronti di Ezio e nel 454 lo fa assassinare e per poi l'anno dopo essere assassinato dai soldati di Ezio quindi nel 455 Valentiniano III dopo aver fatto assassinare Ezio viene a sua volta assassinato dai soldati fedeli ad Ezio a questo punto si scadena l'inferno per l'impero romano e infatti è l'anno in cui i vandali saccheggiano di nuovo Roma cioè in cui abbiamo il secondo sacco di Roma e a questo punto l'impero è fuori controllo si susseguono anni di anarchia fin quando nel 476 dopo Cristo viene nominato imperatore un ragazzino di soli 13 14 anni Romolo Augustolo infatti viene chiamato così Augustolo nel senso di piccolo Augusto in realtà è un fantoccio tanto che Odoacre che è il comandante degli eserciti barbari presenti in Italia lo depone e però non si sostituisce al suo potere manda le insegne a Zenone all'imperatore d'Oriente detto questo però questo segna la fine dell'impero romano d'Occidente cioè l'impero romano d'Occidente è crollato e a suo posto poi li vedremo meglio si creeranno con questi popoli che già si erano insediati si creeranno i regni romano barbarici o romano germanici